170 piante sradicate dalla Guardia di Finanza nell'area frentana. Non si tratta di un'operazione di disboscamento, ma del sequestro di una coltivazione illegale di canapa indica. Gli sventurati coltivatori credevano di poter nascondere le piantine fatte crescere con cura grazie alla fitta vegetazione circostante, ma l'occhio della legge è piombato su di loro dall'alto tramite una perlustrazione aerea. Così le forze dell'ordine hanno estirpato tutta la marijuana, che ora dovrebbe essere distrutta e sequestrato un impianto di irrigazione, fertilizzante e svariati attrezzi da lavoro, ovvero gli strumenti di chi è ricorso all'autoproduzione invece di ricercare la sostanza stupefacente su altri mercati. Secondo i calcoli dei finanzieri, la vendita al dettaglio delle infiorescenze essiccate avrebbe assicurato guadagni fino a 150 mila euro. Il sequestro inaugura ufficialmente la stagione della guerra alle piante. In questi mesi infatti la canapa cresce fino a poter superare i due metri d'altezza, rendendosi così più facilmente individuabile dall'occhio indiscreto delle forze dell'ordine. Le fiamme gialle così continuano le operazioni di monitoraggio delle aree che maggiormente si prestano alla coltivazione, a caccia di altri stupefacenti giardini prima della raccolta di settembre.